Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse al cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna vegetale zuccherata, latte, cioccolato fondente e torta gel. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo il latte. la panna e il torta gel. ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamo in uno stampo in silicone. Posizioniamolo in frigo per almeno 3 ore. Mousse al cioccolato fondente. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi